Brutta gatta da pelare per il Montesilvano che nel primo impegno ufficiale del nuovo anno incrocia sulla propria strada una delle formazioni più ostiche del girone B di promozione, quel perano ormai abbezzo a lottare per la zona playoff che cerca di fare lo sgambetto alla prima della classe. I ragazzi di Mister Di Cencio, consapevoli di affrontare una vera e propria corazzata, cercano comunque di limitare i danni, anche se gli intendimenti della vigilia rischiano subito di finire alle urtiche, quando al nono Finamore intercetta il pallone in aria con un braccio, intervento subito sanzionato con la massima punizione dal direttore di gara. Dal dischetto Tommaso assogna calci al lato e rimanda i sogni di gloria ad altra occasione. Gli ospiti tirano un sospiro di sollievo ma sono costretti ancora a subire l'iniziativa della capolista. Al sedicesimo Potacqui affonda sul corridoio di sinistra e offre un invitante pallone al centro per Di Mauro, del peschio providenziale chiude lo specchio della porta. Il perano ha spuntato in avanti non dà mai fastidi in modo serio al quasi inoperoso Cecamore, chiamato in causa a ridosso della mezz'ora dal tiro poco belleitario di Rotunno. Di ben altro tenore le percussioni dei padroni di casa che impegnano ancora del peschio con l'imperioso stacco aereo di Di Mauro. La prima frazione si chiude con il temibile diagonale di Cocco di un niente a lato. Il light motive della gara non cambia neanche il rientro in campo delle contendenti con il Montesilvano che cerca in tutti i modi di sbloccare il risultato. Dopo appena tre minuti il tacco di assogna mette in azione Cocco pronto alla pennellata al centro con del peschio chiamato ancora gli straordinari per limitare i danni sulle battute a rete di Rincione e del solito Di Mauro. La costanza alla fine premia il Montesilvano che riesce a sbloccare il risultato al sesto grazie a Rincione, abila ad impunearsi in modo avversario sul lancio filtrante di Cocco e a perforare la difesa peranese. La gara si chiude virtualmente al minuto 36 quando stavolta Cocco si trasforma in finalizzatore per un gol facile facile a porta sguarnita. Buono nell'occasione il suggerimento di Di Mauro. Il tris che mette al tappeto i peranesi si concretizza al 38esimo quando del peschio chiede troppo ai suoi piedi e consegna un maldestro regalo all'appostato a sogna che non si fa pregare andando a bersaglio per il definitivo 3 a 0. Santo Spadafora tecnico del Montesilvano è una partita che non ha tradito le attese. L'avevamo preparata bene già dalle feste di Natale, non a caso i ragazzi tutti si sono impegnati, in questi giorni abbiamo fatto doppia seduta fino al 31, non c'è stata un'assenza, basta dire questo. Se visto in campo, sia fisicamente che tatticamente, credo che la partita l'abbiamo giocata e l'abbiamo vinta. Il Perano è stata brava nel primo tempo a mantenere il risultato, però penso che anche nel primo abbiamo dimostrato di poter sbloccare questa partita. E' chiaro che era una questione di tempo, noi ci abbiamo creduto sempre, abbiamo avuto pazienza e abbiamo avuto questo risultato che francamente meritavamo, aspettavamo però già dal primo tempo. Chi può fermarlo questo Montesilvano? Noi siamo una squadra di ragazzi, l'avete visto tutti, oggi era una panchina formata completamente dalla Juniors, non abbiamo l'organico di Rosetana e Casalingondate, se continuiamo così sarà duro per gli avversari, però dobbiamo tenere presente che sia il Casalingondate che la setana hanno dei buoni organici, quindi sicuramente aspetteranno noi su un passo falso, è chiaro che noi andiamo avanti nella nostra strada, dovranno sbagliare anche loro, quindi chi sbaglierà poi alla fine pagherà lo scotto di questo campionato, quindi noi ci crediamo fino alla fine. Nino Di Cencio, tecnico del Perano, una sconfitta qui a Montesilvano che ci poteva stare? Sì, su una carta non possiamo dire nulla, Montesilvano è una squadra che punta a vincere il campionato, quindi oggi anche ho visto che mancava di qualche pedina, però insomma è una squadra un organico forte, una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per la vittoria finale. Noi oggi siamo venuti qua a Montesilvano purtroppo con una squadra molto rimaneggiata, assenti tutti e due gli attaccanti, altre tre... Grazie. Grazie.